Ciao a tutti e benvenuti al mio canale, Casa e Cucina. Oggi siamo qui per recensire la Philips Tutto in Uno Macchina per il caffè a goccia, modello HD 7900-50. Se siete amanti del caffè come me, allora questa macchina potrebbe essere proprio quello che stavate cercando. Continuate a guardare per scoprire tutte le sue caratteristiche e prestazioni. Se desiderate acquistare il prodotto con uno sconto, vi prego di cliccare sul link presente nella descrizione. Grazie. Iniziamo con l'unboxing. Appena ho aperto la scatola, sono rimasto colpito dalla qualità della macchina. Il design è moderno ed elegante, perfetto per qualsiasi cucina. Ha un bellissimo display touchscreen che lo rende molto intuitivo da usare. Una delle caratteristiche che mi ha entusiasmato di più è il macinacaffè conico incorporato. Questo significa che potete macinare i chicchi di caffè appena prima di preparare il vostro caffè, garantendo un sapore fresco e autentico ogni volta. Potete anche regolare il livello di macinatura in base alle vostre preferenze. La preparazione del caffè è davvero semplice con questa macchina, basta aggiungere i chicchi di caffè nella parte superiore, impostare il livello di macinatura desiderato e selezionare la quantità di caffè che desiderate preparare. Potete scegliere di farlo erogare direttamente in una tazza o in una caraffa di vetro da 1,25 litri, a seconda delle vostre esigenze. Il caffè che questa macchina produce è davvero delizioso. Il macinacaffè conico garantisce una distribuzione uniforme del caffè macinato, il che si traduce in un gusto ricco e pieno. Inoltre, potete regolare la temperatura del caffè in base alle vostre preferenze, il che è un grande vantaggio. La pulizia di questa macchina è molto semplice grazie alle parti rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Ciò significa che potete godervi il vostro caffè senza dovervi preoccupare troppo della manutenzione. In conclusione, la Philips tutto in uno macchina per il caffè a gocciacca di 7900-50 è una macchina eccellente per gli amanti del caffè. Il suo design elegante, le funzionalità avanzate come il macinacaffè conico e la possibilità di personalizzare il vostro caffè lo rendono un'ottima scelta per chi cerca una macchina da caffè di alta qualità, se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al mio canale per altre recensioni e suggerimenti sulla casa e la cucina. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video. Ciao!